Ecco un po' di proiettili! C'è un assaltatore! Ecco, munizioni! Visto! È un medico nemico! Ecco dei proiettili! Grazie! Oh, I could use some help! Assaltatore, localizzato! Attenzione, mitragliatrice nemica! Ecco dei proiettili! Ricognitore! Quel ricognitore è uno dei loro! Forza! Ecco dei proiettili! Grazie! Tutto! Ehi! Grazie! Grazie! Ecco! Cascetta medica! Prendi! 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 Munizioni! Amanti! Prendi! 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 quello è un medico giusto quello è un ricognitore attenzione ritagliatrice ehi c'è una c'è una la l'interno in la 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 E' stato colpito! Ecco qui un po' di munizioni! Grazie mille, davvero! Come no! Pronte delle munizioni! A Cabbin! A тебя cabbin! I got the pistole! Regiskt! Reach to the combat area Torni subito qui, c'è bisogno di te! Ho localizzato! Occhi aperti! C'è un ricognitore nemico! C'è un po' di guadagnolo! Ecco le munizioni! Proiettili! Ecco qui! Proiettili! Gravato! Brava! Un ricognitore nemico! We have all met him on. Yeah. Seriously? Oh. Mitraidatrice! È una delle loro! Mi hanno beccato! Mi serve un dottore! Unり due di. Un di due. 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 i proietti medico nemico ecco qui un po di munizioni vedo un assaltatore nemico i proietti medico un ricognito a a a a a a a a a I already voted Albion I'm sorry, I'm sorry I'm sorry Grazie a tutti.